Debutta giovanissimo come attore, recitando nel 1968 la parte del protagonista nel teleromanzo Lazzarillo, tratto dal romanzo Lazzarillo de Tormes, con la regia di Andrea Camilleri. Nel 1977, dopo essersi diplomato come operatore e cameraman all'Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV Roberto Rossellini, Ettore Scola lo sceglie per interpretare il personaggio di Umberto nel film Una giornata particolare, al fianco di Sofia Loren, Alessandra Mussolini e Marcello Mastroianni, mai incontrato sul set per sua confessione. Il film vinse il Golden Globe come miglior film straniero nel 1978, ed ottenne la nomination all'Oscar nello stesso anno. Per la televisione ha doppiato l'attore statunitense Matthew Fox nella serie televisiva Lost, Jason Batman nelle tre stagioni di Arrested Development Ti presento i miei. Il personaggio di Arma nella serie TV J.A.G. Avvocati in divisa. Scott Baio in Babysitter e Wesley Windham Priest in Buffy l'ammazza vampiri nel relativo spin-off. Angel, ha doppiato nel passato anche cartoni animati e anime come Animaniacs doppiando Squid, Freakazoid dando la voce al protagonista omonimo nel cartone animato omonimo. Mila and Shiro, due cuori nella palla a volo, doppiando il protagonista Shiro. Goemon Ishikawa tredicesimo in alcuni media di loop in terzo. Holly and Benji, dando la voce a Mark Landers. Camina in sfondamento dei cieli Gurren Lagann. Il prof, palladium in Wings Club e Kondo in Jintama. Il prof, palladium in Wings Club e Kondo in Wings Club e Kondo in Wings Club e Kondo in Wings Club.